Il primo atto ufficiale di una stagione di avvicinamento alla prima gara ufficiale c'è stato il ritiro precampionato dove i ragazzi con il mister hanno lavorato sicuramente in maniera egregia e adesso c'è questo primo match importante, non prima di aver presentato queste nuove maglie create nuovamente per l'ennesima volta da Flyline, c'è la novità della maglia grigia che è la terza maglia siamo contenti per questa buona presenza di pubblico e augurandoci che quest'anno il premio sia diametramente a posto a quello che ci ha comodato nella passata seggio Calda anche la questione di ripescaggio in questi giorni, diciamo che in caso di campionato a 21 squadre non c'è minima speranza, ma in caso di campionato a 22 diciamo che la USAB è l'unica società ad avere requisiti Non vorrei bilanciarmi su queste cose perché poi sono in atto di percorsi giuridici l'orientamento della Lega era quello di effettare un campionato a 21 squadre quindi al momento la Serie B ha venuto in squadra e quindi è ovvio che non ci siano possibilità però restiamo alla finestra senza illudere nessuno e attendiamo con ansia e con la consapevolezza di avere la coscienza a posto, gli esiti